La rivoluzione del traffico nel centro di Cagliari è cominciata. Da questa mattina stoppa le auto in tutta via Roma, lato Portici, per poter aprire il cantiere che cambierà il volto del fronte portocittadino, trasformandolo in una lunga passeggiata verde, interamente alberata, la grande piazza sul mare progettata dall'Archistar Boeri. Vietato quindi il transito da via Roma Angolo Largo Carlo Felice fino a via Sonnino. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero terminare entro settembre. Nel corso della mattinata niente caos. La viabilità alternativa studiata dal comune ha funzionato, ma l'assessore alla mobilità, Alessio Mereu, è pronto a possibili contromisure qualora i disagi al traffico diventassero insostenibili per gli automobilisti. Una delle modifiche già in programma riguarda Viale San Vincenzo, dove verrà liberata una corsia delle auto per consentire al traffico di defluire facilmente. Sicuramente la viabilità alternativa sta funzionando. I risultati mi pare che siano oggi evidenti, soprattutto nelle ore di punta. Nella corsia lato porto ci aspettavamo anche noi un carico maggiore, invece le cose stanno andando molto bene. L'invito da parte dell'amministrazione è quello di utilizzare i mezzi pubblici o percorsi alternativi, cercando quindi di intasare il meno possibile la viabilità intorno a Piazza Matteotti. Prevista in questi giorni anche l'inversione di marcia su via Sassari, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Crispi, in direzione Piazza del Carmine, in vista dell'apertura del nuovo cantiere di Viale Trieste. E proprio i lavori di Viale Trieste, che si aggiungono a quelli di Via Roma, potrebbero aumentare i disagi al traffico. Su Viale Trieste prevediamo di chiudere tra una decina di giorni. Il traffico veicolare verrà confluito con il laterale di Via Roma, attualmente a senso unico che diventerà doppio senso. Grazie a tutti.